il cross è preciso però il giocatore viene abbattuto c'è la difesa io perdo sempre palla andiamo a chiudere sto primo tempo in attacco dai vai così lo salto ho un'altra occasione per chiuderla definitivamente porca troia finisce qua il primo tempo non 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 Siamo ritornati con il secondo tempo E andiamola a chiudere completamente, dai Attacchiamo con tutte le nostre forze Devo superarli, devo superarli L'avevo anche superato Mamma mia Abbiamo rischiato Meno male che c'era fuori gioco tra l'altro Per poco non prendo la palla Attenzione al Nord Irlanda Qua che adesso fa un pochino sul serio Non però troppo pericoloso Posso creare un'altra occasione Posso andare avanti Sulla fascia Senza portarmi il pallone fuori Ripassamela, ripassamela, ripassamela Ripassamela Crossamela Di testa non ci arrivo, peccato La palla è ancora nostra Ci posso riprovare Prendo ancora il difensore E dai che cazzo però Palla è recuperata Non so cosa fare in mezzo a tutte queste maglie qua E frette Partita completamente chiusa da Spinazzola Possiamo creare un'altra occasione Vai così E arriva la palla Attenzione Sulla linea me lo sono tirato fuori Peccato Possiamo recuperare subito palla Praticamente ce l'hanno passata Me la passa Però il passaggio non arriva Quindi occasione sfregata Riescono a passare in qualche modo Attenzione Però vengono fermati dalla difesa Devo passare in qualche modo Devo superarlo Attenzione Con una giocata Lo supero Mi porto in aria 1-2 Quasi Micidiale Attenzione C'è un'altra occasione C'è la difesa però Grandissima giocata Quasi recuperavo palla Attenzione Adesso Gli avversari Che si portano in attacco Si portano in aria Dopo tantissimo tempo Tirano Calcio ad angolo per loro Arriva il cross In mezzo Di te Meno male Che il portiere L'ha presa Altro calcio ad angolo Dunque Questa volta La difesa sventa Però la palla Rimane Agli avversari Attenzione C'è il tiro Donnarumma La prende Eh Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Io questa volta La difesa Non riesce a recuperare Attenzione La mette in mezzo Di testa La difesa Spazza la palla Attenzione Ci riprova Entra Chiesa Al posto di Spinazzola Mi faccio rubare palla Come un pirillo Cazzo Attenzione Attenzione Perché Hanno un'altra occasione Per attaccare Non sono soli Questa volta Attenzione Si prova da distanza Attenzione Chiesa Mamma mia Chiesa Il primo pallone Che ha toccato Ha fatto schifo Speriamo che non è così Tutta la partita Attenzione Perché recupero Palla In qualche modo Attenzione Ancora Altra occasione Altra occasione Lo salto Incredibile Incredibile Vedo Chiesa Chi cazzo è Peccato Perché ho fatto Un'azione Incredibile Si possono provare L'Italia non riesce A recuperare palla Al centro campo Non facciamo L'uscita Da qua Dai Non facciamo L'uscita Dal centro campo Attenzione Perché con una serie Di passaggi Ci riescono Però poi perdono Subito Palla Che cazzo fai Tu Sono costretto A crossare 1-2 Inutile Attenzione Perché recupera Palla subito Chiesa Me la può crossare Però non lo fa Sono da solo Davanti Esce Raspador Ed entra Zaccagni Ci provo Prende in pieno Il difensore Palla recuperata Sono costretto Attenzione Attenzione Perché non voglio Prendere golle Di testo Troppo facile Per il portiere Cerco di saltarlo Ma non ci riesco Purtroppo Attenzione Gli avversari Chiudeteli 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 C'è il portiere Attenzione Perché l'Irlanda del Nord Si può riprovare ancora Palla recuperata Contropiede Contropiede Veloce Veloce Il contropiede Può arrivare C'è il portiere Purtroppo Spazzano via Che cazzo fa Ma io non ho capito Niente di quello Che è successo Però vabbè Chiudetelo Chiudetelo Non fatelo passare Ok bravissimo Ripartiamo veloce Attenzione Velocissimo Ci arrivo Attenzione Posso farlo Tripletta 4-0 Adesso Finalmente Ho fatto la tripletta E ora Posso stare tranquillo Probabilmente Ci sarà L'ultima azione Probabilmente Invece Finirà così Infatti Finisce 4-0 All'Irlanda del Nord Questa è solo Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.